Mezzanotte e 52, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito dallo Sri Lanka, dove è stata una giornata di Pasqua di sangue. Sei attentati in contemporanea, tre chiese e tre alberghi. I morti al momento vengono contati intorno ai 215, più di 500, i feriti, 13 le persone che sono state arrestate. Nessuna rivendicazione è ancora arrivata. In serata la polizia ha trovato un nono ordigno artigianale vicino all'aeroporto internazionale di Colombo. È stato fatto brillare dagli artificieri. Vediamo nel servizio il racconto di questa giornata. Gruppi terroristi legati all'estremismo religioso. La polizia dello Sri Lanka segue la pista dell'islamismo radicalizzato. Dietro la serie di attentati che nella capitale Colombo ha provocato oltre 200 vittime, potrebbe esserci il National Tawit Jamat, una formazione attiva dall'anno scorso responsabile di numerosi assalti alle comunità buddiste. 13 persone sono state arrestate e la caccia all'uomo prosegue. I vertici delle forze dell'ordine erano stati allertati da alcuni servizi segreti stranieri e su ordine del governo è già partita un'inchiesta per capire come mai l'allarme fosse stato sottovalutato ma al momento il paese è sconvolto dal peggiore attacco dalla fine della guerra civile contro i ribelli tamil. Il bilancio delle otto esplosioni, sei in simultanea contro chiese cristiane e strutture turistiche nella capitale a Baticaloa e Negombo è ancora provvisorio. 35 sono al momento le vittime straniere, identificate tra queste diversi cittadini americani, britannici, olandesi, danesi, due turchi, un cinese e un portoghese. Al momento non risultano italiani coinvolti, è stato imposto il coprifuoco di 12 ore a partire dalle 14.30 italiane lasciando però la possibilità di partire a chi intenda abbandonare il paese, oscurate su internet e le reti sociali per evitare la diffusione di fake news e le scuole resteranno chiuse per due giorni. Messaggi di cordoglio e di condanna delle stragi sono giunti al governo di Colombo da tutto il mondo. Il Papa ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime di una violenza così crudele, ha detto. Gli attentati di Pasqua sono solo l'ultimo atto di una serie di attacchi che nel 2018, secondo un rapporto del World Watch List, ha ucciso 4.305 cristiani nel mondo. E lo avete sentito, il Papa ha messo al centro delle sue preghiere le vittime degli attentati di oggi nello Sri Lanka, lo ha fatto al termine della benedizione Urbi e Torbi che segue come è da tradizione la messa di Pasqua davanti a tantissime persone. Il Papa ha pregato per le vittime degli attentati in Sri Lanka, ma non solo. Ha voluto riportare la sua attenzione sulle tante sofferenze del nostro tempo, le tensioni in Medio Oriente, la guerra in Siria, in Libia e nello Yemen e poi nell'Africa chiamata amato continente afflitto da violenze e estremismi e poi per le crisi in Ucraina, Venezuela e Nicaragua. Bergoglio ha esortato a non restare indifferenti e a far cessare il fragore delle armi e soprattutto a mettere un freno alla diffusione delle armi. Queste le parole del Papa e chiudiamo la vicenda, chiudiamo il racconto di questa giornata di dolore e di morte causata appunto da una serie di attentati con un attacco che è stato sventato invece in Arabia Saudita dove quattro persone sono state uccise dopo aver tentato di assaltare una sede dei servizi segreti che si trova in una città, 260 chilometri da Riad, un attacco che invece è stato rivendicato ovviamente dall'ISIS. E ora parliamo di politica italiana al termine di una settimana complicata per i rapporti tesi all'interno della maggioranza, la vigila di un'altra settimana che martedì vedrà il Consiglio dei Ministri e quell'altro argomento al centro del dibattito infuocato tra le due anime della maggioranza che è il Salva Roma. Oggi è arrivato un nuovo elemento di polemica, una foto di Salvini con un mitraglietta in mano postata dal suo social media manager. Doveva essere una giornata di tregua, quella di Pasqua per la maggioranza per abbassare i toni dopo giorni di pesanti botte e risposta sui casi Siri e Raggi. Doveva perché è un post su Facebook firmato dallo spin doctor del leader del carroccio Luca Morisi ad accendere nuove polemiche. Si vede il ministro dell'interno che sorregge un'arma e il testo che dice vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega, si avvicinano le europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il capitano, ma noi siamo armati e dotati del metto, avanti tutta. Post che ha scatenato l'indignazione di tutta l'opposizione dal PD a sinistra italiana. Sullo sfondo però il caso del sottosegretario Armando Siri ribolla e il ministro Toninelli, dopo avergli tolto le deleghe, torna a chiederne le dimissioni. Un brutto precedente, commenta il ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio. Così il consiglio dei ministri di martedì sul decreto crescita, durante il quale si capirà cosa deciderà di fare il premier Conte sul caso Siri, si annuncia come un nuovo campo di battaglia che coinvolgerà anche il cosiddetto Salvaroma, per il quale il no della Lega appare scontato. L'accordo è già quasi fatto e comunque l'operazione sui debiti è già iniziata, assicura la vice ministra all'economia Laura Castelli, che mercoledì ha convocato tutti i sindaci delle città a capoluogo per evitare l'effetto di un trattamento di favore per la capitale a spese degli altri, aggiungendo al Salvaroma un salva comuni. Non credo che la Lega bloccherà davvero il decreto crescita, tutte mosse mediatiche minimizzano i 5 Stelle. Con oltre 70% delle preferenze Vladimir Zelensky sarà il nuovo presidente dell'Ucraina, sconfitto l'uscente Poroshenko e adesso dovrà fare sul serio perché è un attore che negli ultimi anni ha interpretato proprio il presidente in una serie televisiva comica. Ora dovrà veramente affrontare la Russia con la quale il suo paese continua ad avere una guerra anche se a bassa intensità, come vengono definite queste guerre al confine e dovrà affrontare soprattutto tante questioni, tra cui il rientro dei prigionieri per i quali si è impegnato a fare subito qualcosa. Il comico Vladimir Zelensky è il nuovo presidente dell'Ucraina con oltre il 70% delle preferenze sul presidente uscente Petro Poroshenko che ha subito riconosciuto la sconfitta. Gli ucraini hanno scelto una persona senza esperienza che viene dal mondo della TV, preferendolo all'uomo che finora ha gestito il conflitto con la Russia nel Donbass e in Crimea. Gli analisti sono concordi, quello per il 41enne Zelensky è il classico voto di chi ne ha abbastanza dei governanti al potere ed è disposta a votare per la novità anche se non gli è ben chiaro cosa andrà a fare. Il programma del vincitore ha pochi punti vaghi e difficilmente non condivisibili per l'Ucraino comune non russofono. La fine della guerra in Donbass, la lotta alla corruzione, riforme economiche, la scelta aperta per il campo occidentale. Ora Zelensky è attesa alla prova. Sul fronte interno, per capire quanto sarà indipendente dal suo finanziatore, l'oligarca Ogor Kolomoinsky, incappato in varie vicissitudini giudiziarie e poi caduto in disgrazia. E sul fronte estero vedremo infatti come risponderà Putin alle prime parole pronunciate da Zelensky dopo la vittoria e rivolte a tutti i paesi ex sovietici, guardate all'Ucraina, dopo la mia elezione, tutto è possibile. Tutto è stato possibile per Fabio Fognini che ha vinto il Master 1000 di Monte Carlo. Vediamo subito. La maglietta sulla faccia, le braccia al cielo, il sorriso, il bacio alla terra rossa, la consapevolezza di aver fatto qualcosa che rimarrà per sempre perché l'ultima volta che un italiano vinse qui a Monte Carlo era il 1968. Fu Nicola Pietrangeli, poi la dedica al team, alla moglie Flavia Pennetta e alla mamma che compie gli anni. Ci sono vittorie che indirizzano una carriera e questa di Fabio Fognini lo è. Soltanto una settimana fa Fognini era un tennista stanco, depresso, alle spalle una carriera piena più di rimpianti che di successi, una vita sportiva passata ad aspettare il treno giusto senza mai afferrarlo. E questo per via di una debolezza mentale che finiva per spegnere quasi sempre un talento non banale. Il rischio è che venisse ricordato come una sorta di mechero sfigato, ora non più. Ieri la semifinale capolavoro con Rafa Nadal, oggi l'ultimo ostacolo, il serbo Lajovic battuto in due set. Il primo vinto in scioltezza 6-3, il secondo 6-4 con il brivido superato dovuto ad alcuni guai fisici. Mai nessun italiano aveva vinto un Master 1000 da quando esiste questa categoria di tornei, cioè dal 90. Fabio Fognini è il primo e da oggi è il numero 12 al mondo all'età di quasi 32 anni. La decima posizione ha poco più di 200 punti, a dimostrazione che almeno nello sport. Mai è troppo tardi. È l'una e un minuto, per noi invece è tardi, ci fermiamo qui, come sempre l'informazione torna domani alle 7, vi auguro una felice pasquetta e intanto una buona notte, arrivederci.